Il Governo regionale scende dal piedistallo e spieghi meglio le ragioni delle scelte assunte sugli ospedali civili di Sciacca e Ribera, sia per il presente che per il futuro. E questo è il tono di un documento diramato oggi dai consiglieri comunali della coalizione che sostiene il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, i quali si dicono stupiti della dichiarazione di sabato scorso di Ruggero Razza, il quale ha attaccato i sindaci dal suo punto di vista colpevoli di non accettare la decisione di trasformare l'ospedale di Sciacca in un centro covid. Fanno notare gruppi di consigliari di maggioranza come molto spesso si dimentichi che mentre Palermo si discute i comuni siciliani vivono la condizione di un'autentica polveriera sia sul piano sociale che sul piano economico ed occupazionale e che l'onere di gestire una fase così difficile è affidata prevalentemente ai sindaci i quali, quando lo ritengono opportuno, hanno il dovere di alzare la voce in difesa delle comunità senza che ciò venga scambiato per l'allarmismo, cosa che vale soprattutto per il diritto alla salute. Al sindaco di Sciacca Francesca Valenti e a quelli del territorio va riconosciuto il diritto di manifestare apertamente al proprio dissenso rispetto alle attuali scelte assunte dal governo regionale. Scelte, osservano i consiglieri, che riteniamo debbano essere chiarite e argomentate attraverso un'azione di costruttivo confronto e concertazione che fino ad oggi o non c'è stato o non è stato adeguato. L'accusa al governo musumece di adottare per gli ospedali agrigentini diversi trattamenti. Per il centrosinistra, chi ha responsabilità di governo ha il dovere di assicurare territorio un'azione improntata all'insegna della collaborazione del reciproco rispetto istituzionale. L'accusa è anche nei confronti di Margherita Larocca Ruvolo, accusata evidentemente di lasciar fare, nascondendosi dietro la presunta carenza di competenze rispetto a materie che, dicono i consiglieri di centrosinistra, ricadono nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali che pertanto imporrebbero posizioni più nette e chiare. Sul dibattito scaturito dalla lotta al coronavirus, oggi il segretario della Camera del Lavoro Miraglia, Franco Zamuto, sostiene che la nomina di Alberto Firenze a commissario d'acta per l'emergenza alla fine abbia solo aggravato la confusione, le tensioni tra gli operatori sanitari e la richiesta di quella chiarezza che rasserenasse gli animi. La CGL si dice convinta, infatti, che le incomprensioni non siano finite, tra alcune iniziative disapprovate da più parti e tensione alle stelle, con incontri che sconfinano in minacce di procedure di provvedimenti disciplinari o disposte alla Procura della Repubblica. Per Zamuto quello che potrebbe essere necessario e utile realizzare sarebbe l'ipotesi di istituire al Giovanni Paolo II un reparto di malattie infettive, a condizione che si provveda a dotare la struttura di personale dedicato e non attingendo al già striminzito organico degli altri reparti. Zamuto ritiene doveroso di sapere dove comincino e dove finiscano le prerogative di intervento del commissario d'acta Firenze, ricordando come vado osservato il rispetto delle regole dei contratti di lavoro nel comparto sanità, anche in regime di commissariamento.